No? Due anni fa? Due anni fa quant'ha vinto lui? Vedi? Due anni fa hai preso la pillolina e sei arrivato primo, quest'anno niente. Che devo fare? Che te ne sembra? Ovviamente la gara è spettacolare, è bellissima. Antonio Fracasso e Emanuele Guida sul Rover MG A5 Casarano Rally Team, il loro è il numero 72. In bocca al lupo ragazzi. Hai avuto modo, Franco, hai avuto modo di guardare le prove speciali perché una si farà al conto...